Alla vigilia della partita contro la Triestina siamo in compagnia di mister Andrea Camplone, una triestina che ci evoca brutti ricordi perché è una delle bestie nere storiche degli Amaranto. Però l'Arezzo visto in campo contro il Materica, specialmente nel secondo tempo, ci fa per sperare, mister. Sì, sì, ma io poi ho visto tutta la settimana di allenamenti, quindi stiamo crescendo. E questo è molto importante, i ragazzi stanno assimilando quello che stiamo insegnando, è un altro punto a favore. Diciamo che è una squadra, a parte la bestia nerea, ma è proprio una squadra forte, quindi quest'anno specialmente ha tanti giocatori importanti, quindi è stata costruita per vincere il campionato. Adesso sta a noi dargli fastidio, dobbiamo essere una squadra che inizia a dar fastidio un po' a tutte, perché dobbiamo muovere la classifica, dobbiamo fare punti perché siamo ultimi, e quindi per tanti vari motivi non possiamo più regalare niente a nessuno. Abbiamo lavorato tanto questa settimana sulla fase difensiva, proprio perché abbiamo preso tanti gol. Adesso mi aspetto una risposta, sicuramente è un avversario che potevamo anche evitare, però è capitato, dobbiamo scendere in campo con la determinazione giusta e con la cattivea giusta. Per quello che riguarda l'infermeria, è disponibile, poi sappiamo che l'Arezzo è un cantiere aperto ancora. Sì, sì, stanno arrivando dei giocatori, ci sono dei giocatori che non li ho ancora visti, come Belloni, che non deve arrivare oggi, quindi è un cantiere aperto. Stiamo ricostruendo una squadra, stiamo rinforzando una squadra, che fino ad oggi purtroppo la classifica dice questo, che è una squadra debole, adesso stiamo rinforzando con innesti importanti per trovare la quadratura giusta e per fare un campionato di salvezza. È arrivato anche il nuovo portiere, una vecchia conoscenza da queste parti. Sì, mi credo che io l'ho avuto anche, quindi l'abbiamo ripreso perché è un giocatore valido, secondo noi ci può dare una grossa mano e far crescere i ragazzini che abbiamo dietro. Forza, Rizzo. Sempre.